Va tutto bene, Ladybug mi ha mandata per farvi uscire e proteggervi prima di aiutarla contro Regina della Moda, calchi? Portale! Prima tu! Wow, Marinetta, hai avuto un'ottima idea! Grazie! Tiki, trasformami! Resta qui, dopo averla sconfitta verrò a riprenderti! Non sarà un'impresa facile tornare in quella torre. Torniamo a casa allora? Non ancora. Plug, trasformami! Bel lavoro, ragazzi! Che missione impegnativa, vero, calchi? Vero, abbiamo agito con una certa maestria. Tanto per saperlo, quante volte hai usato il tuo potere? Diciamo un certo numero di volte. Non oso immaginare le catastrofi che tutti quei teletrasporti hanno causato. Non perdiamo altro tempo! Tiki! Fallen! Unitevi! Splendido lavoro, Volpe! Carapace? Non siamo mai troppi quando serve aiuto, giusto? Hmm... Hai ragione. Carapace può tornarci utile. La piccara! Che strano! Forse riuscirò a battere regina della moda senza il mio lachicciarma. Beh, comunque la cosa importante è riuscire a batterla. Ferma la tua illusione! Allora, ti va di giocare a nascondino, Ladybug? Realtà! Carapace, ho bisogno che tu mi protegga. Ricevuto! Farò come tu dici. Non preoccuparti, non dirò nulla, regina della moda, Ladybug. Ti proteggerò, perché oggi niente dovrà impedirti di vincere. Beleno! Scudo protettivo! Ma che... Via lo scudo! Ritrasformami! Niente più male fatte, piccola Alcuma. Ladybug, sconfinge il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Grazie al tuo aiuto so che possiamo farcela. Con questo strapperai le fasce dei mini-maledictor. Libererai le Amok e le Akuma da ogni mini-maledictor di Parigi, col tuo speciale potere della moltiplicazione. E che mi dici del sentimostro? Continuerà a clonarne altri! Libera i parigini, penserò io al sentimostro. E cosa hai in mente di fare? Mi servirò di tante persone che affronteranno insieme il problema. È quello che intendo io quando parlo di lottare per l'ambiente. Come vedi, hai delle idee grandiose. Così diffonderai velocemente i tuoi poteri in tutta Parigi. È normale avere paura. Ma tu puoi superare la mia paura e andare avanti. Lo so. Non ho paura. Posso farcela. Non ho paura. Posso farcela. Non ho paura. Posso farcela. Non ho paura. Non ho paura. Sta per il Progetto Oxygen. Niente ferme dal Progetto Oxygen. Dov'è questo? Che cosa ci faccio qui? E tu che sei? Perché siamo così piccoli? Va tutto bene. Adesso abbiamo i rinforzi. Lo catturatevi con i cittadini. Bravo, maledetto. Prendi il Miraculous. Milady, che è successo? Eri controllato da un mini maledictor. E devi anche rivedere le tue battute. Devo guadagnare altro tempo? Quanto basta farmi radunare la squadra? Ehi, ragazzi, aspettate! La foto di gruppo! Pegasus, te le trasporta a Desperia! Portale! Venu! Tocca a te, Ryuko! Dragone del vento! Carapace! Scudo protettivo! Lady, va! Sconfiggia il mare! Ciao, ciao! È impossibile da catturare. È ancora di più da avvicinare. Allora come rompiamo l'oggetto che trattiene la cuba? Entra la rete... E si capovolge la tartaruga! L'ingiustizia al singolo è una minaccia per tutti. Toglietemi subito queste manette! Penso che le cose siano più complicate di come sembrano. Dobbiamo capire meglio. Coprimi! Ehi, tu! I tuoi attacchi hanno dei nomi molto poetici. Mi piacciono molto. Da dove hai preso l'ispirazione? Distruggi il gatto! Non sono un suo grande fan! Qualcuno di voi sa di quale ingiustizia parla questa super cattiva? Come possiamo saperlo? Ha iniziato lei! Non è colpa nostra. Eseguivamo gli ordini. Com'era prima che fosse acumizzata? Spaventosa, molto testarda e bugiarda. Diceva che aveva una figlia. Che era scesa dall'autobus con i biglietti e che sarebbe tornata indietro. Un sacco di stupida. Una figlia che è scesa con i biglietti? Che dici se troviamo la figlia? Potrebbe funzionare. L'ingiustizia sarebbe risolta e lei non avrebbe più motivo di restare acumizzata. Vediamo se la tua idea è davvero così buona. Coprimi! Scusami, ho l'impressione che tu stia provando a dire qualcosa con quel furgone volante. Giusto? Adesso è molto più chiaro. Quello che non sai, Michetta, è che per far apparire Marinette devo ritrasformarmi. È rischioso. Devo essere certa che funzionerà e incalmare mamma prima di farlo. Chilin! Roger! È stupido combattere per un paio di biglietti. Non è una questione di biglietti, è una questione di principio. Se troviamo la ragazza che li ha, possiamo provare che è stato tutto un malinteso. Sto mentendo, è una trappola. Davvero? Smetterebbero di attaccarmi? Te lo prometto! Toglietemi queste manette! Assolutamente no! Il mio dovere è in discussione. Eri sull'autobus senza biglietto, stavi infrangendo la legge. E la legge è la legge. Stai confondendo la legge con la giustizia. L'integrità senza intelligenza è solamente cieca ignoranza. Generale, iniziate l'operazione rete di farfalla! Insegui la tempesta! Vabbè, alla faccia della mia bell'idea. Torniamo al buon vecchio modo. Sfila miracolosamente quelle manette e rompile! Esattamente! Lucky Charm! Una pistola laser? Per fermarla serve solo toglierle quelle manette. E ho appena ricevuto la soluzione per farlo, quindi perché una pistola laser? Roger, dammi le tue chiavi! Sei fuori di testa! È già imbattibile con le manette! Se gliele togliamo, distruggerà tutto! Ha ragione! Smettila di essere così cocciuto! Se non me le dai tu, dovrò prenderle con la forza! In tal caso impregeresti anche tu la legge, signorina Ladybug! Ragazzi, copritemi! Carica! Certo, ecco cosa mi mancava! Più nemici? Più o meno! Per deacumizzare Chilin, dobbiamo anche fermare gli attacchi della polizia! Ecco il mio piano! Cataclisma! Da questa parte, agenti! Roger, che piacere vederti qui! Scusa. Distruzione di pubblica proprietà, furto di attrezzatura delle autorità, campanellino assurdo e orecchie da gatto! E per la giustizia e per il bene comune! Ti ringrazierai più tardi, Roger! Siamo dalla stessa parte, tu e io! La soluzione ai nostri problemi! Chilin! Ancora tu! Ecco le chiavi! Vedi? Io mantengo le mie promesse! Chilin! Non lasciarti ingannare! Prendi il suo Miraculous! No, questo non sarebbe giusto! No! Un mondo senza bugie non serviranno supereroi, San Juan! No! No! Se tocchi la sfera ti bloccherà! No, se ho sempre detto il vero! E pensi di averlo fatto? Non proprio! Tu invece? Certo che no, gattino! No, noi dobbiamo mentire! Conserva segrete le nostre identità! E se tocchiamo quella sfera, nessuno può impedire che inghiottesca l'intera Parigi! D'accordo, allora che facciamo? Lucky turn! Non vedo l'ora di sapere a cosa serve quel drone! Ok, noi non possiamo entrare, ma dubito che questa gege abbia mai mentito! Il che vuol dire distrailo mentre io invio quest'uccellino a spiare! Restiamo in contatto! Ogni tuo desiderio ha un ordine, Milady, e questa non è una bugia! Il mio nome non è Chat Noir! Io non sono un supereroe! Io odio Ladybug e credo che Falena Oscura avrebbe fatto meglio a chiamarsi Falena Pavone! È molto più divertente! Ah, dimentichavo! Il mio piatto preferito è il cavolfiore con la besciamella! Cattura quel gatto imbroglione, bugia! E prendi il Miraculous! Hai la mia parola, Falena Oscura! I bugiardi alla fine pagano sempre! So qual è l'oggetto che è stato acumizzato! Grandioso! Distruggilo! Come faccio se non posso toccarlo? Hai ragione! Solo chi non ha mai mentito può entrare in quella sfera e farlo! Peccato che non esista! Sì che esiste, Chat Noir! Sì che esiste! Fang, il coccodrillo di Jaggestone! Luna non ha mai mentito! È un animale! E non saprebbe come fare! Hai ragione! Sta funzionando! Ma se bugia lo vede arrivare, siamo fritti! Rimangono solo due bugiardi a Parigi e uno di loro sa come attirare la sua attenzione! Non farlo! E se io fallessi non se ne parla! Sai una cosa? Mi fido di te! Chat Noir, no! Che fai? Hai perso la testa? L'ho persa per te, Milady! No! L'hai persa e basta! Irresponsabile! Il momento della verità è vicino! Prendi il Miraculous di Chat Noir! Poi toccherà quello di Ladybug! Fa presto! Niente più malefatti, piccola Akuma! Ladybug, sconfiggio il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina!